Luca Speracchi, creator di OnlyFans, si è scagliato contro le nuove linee guida che Pier Silvio avrebbe imposto per il cast del GF. Il Grande Fratello si prepara a ripartire. Lunedì 11 settembre avrà inizio la nuova edizione, che si preannuncia ricca di cambiamenti. Non solo un cast diviso tra VIP e NIP, ma nella scelta dei protagonisti gli autori del reality di Canale 5, hanno dovuto seguire le nuove linee guida dettate da Pier Silvio Berlusconi, intenzionato a lasciare il trash fuori da Mediaset. L'ad dell'emittente milanese, in particolare, avrebbe posto il veto su due tipologie di concorrenti, influencer e creator di OnlyFans. Luca Speracchi non ci sta, e si è sfogato sulle pagine del settimanale nuovo. Qui, il 37enne content creator di OnlyFans ed ex volto di Uomini e Donne, ha attaccato le nuove linee editoriali che Pier Silvio avrebbe imposto. Spiegando di aver rinunciato a candidarsi al Grande Fratello dopo esserne venuto a conoscenza. Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo aver letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su Of di partecipare a certi programmi. È ridicolo, ha detto. Luca Speracchi, molto attivo sul suo profilo OnlyFans, ha spiegato che escludere creator di questo tipo dai reality, sarebbe ridicolo in primis dal punto di vista della coerenza. Dato che questi programmi, mandano in onda monologhi contro il razzismo, l'omofobia, e per il femminismo, per poi andare ad escludere coloro che lavorano con OnlyFans. Speracchi ha quindi continuato. Escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo. Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social.